Riccardo Esposito dopo il passo falso contro la Germania, l'over 40 si è riscattata subito contro la Grecia ieri e oggi grande prova contro la Serbia, una partita durissima, vinta dagli Azzurri 81-72. Non è giusto, stiamo soffrendo. Il passo falso contro la Germania ci ha fatto prendere coscienza che non possiamo giocare senza intensità e quindi oggi abbiamo messo in campo moltissima rabbia, moltissima intensità, abbiamo giocato cattivi, abbiamo difeso molto bene e in attacco ci siamo passati di più la palla, quindi questa è una squadra che se gioca come sa non ha rivali. Adesso nell'eliminatoria ci aspetteranno delle avversarie di altra caratura, come vedi il proseguo di questo campionato del mondo per la formazione over 40? La nostra è una formazione accreditata come una delle migliori, quindi sta solo a noi di mostrare in mezzo al campo quello che possiamo fare. Adesso non sappiamo ancora se siamo passati come primi o come secondi, quindi dovremo vedere un po' la differenza canestri, però io sono fiducioso perché questo è un gran gruppo e se giochiamo con questa intensità non abbiamo rivali.